Poi non si muovono più, stanno fermi E chi s'è visto s'è visto Grazie Va bene, ammazzami almeno quello Dove sono? Avviare sorvolo di ricognizione UAB Ma era sdraiato, cioè Svicher pronta Boh, quello col cecchino non so Sarà quello che dicevi tu Vabbè Senza pietà Il king dell'SG12 lo chiamavano Il king Oddio cano, ho finito i colpi però No, la strife Dimmi che c'è un'arma No, Kri-Top Oddio cane, mi ha fatto hitmark Devo scappare Dov'è? Tempest disponibile Torque ucciso Squadra che hanno distrutto il nostro segnale tattico Mina seeker attivata Uccisione Ammazzamelo per favore Quello Minchia, ma te l'avevo detto o no? Quello nell'angolo a destra Ha intenzione di muoversi? Metti a terra Top È uno shotissimo quello Kri-Tro Lo prefario lo devi pushar però lo devi pushar Diokana sinistra Guarda l'Uav Porco 2 Mettimeli a terra Ma c'è chinato Ero 25-0 Ma c'è chinato Gli ho dato 4 raffiche con lo Swartish 4 I want to stop Diokana Il mio amico è eliminato No la Non ci credo tua madre è stronza E' mio questo No ero 25-0 Ero quasi istancabile Non ero nemmeno istancabile Anzi in volo Stemmo stanuto per la sua tradizione Minaseeker attivata E' one shot Sto spanati i mid A sinistra saranno spanati Bro Questo è sdraiato Cos'hai paura Bro Che non mi challenge Oh Tempest carica Tempest pronta a far danni Sdrai che è quasi fatta Questo dov'è sopra Sotto Sotto Tempestino attivazione Elton doppia uccisione Mi Squadra di droni Attesa di ordine Squadra di droni Nell'area della missione Me l'ha fatta la squadra di droni Incredico Squadra di droni La mina Quanto ho fatto Dio cane Ho fatto la nostra parte Via senza pietà Un inizio di una grande serie Arrivata a 25 E poi si inita Perché Dio cane Ho sparato 4 raffiche a 1 Con il cecchino 4 raffiche Mi sarà entrato un colpo a raffiche Che bella vita ragazzi Vedi tu Eh senza anima l'ho fatto Ero quasi instancabile Comunque